Ok, risposte dei lettori veloci, prima però vi voglio far vedere cose nostre americane. Porca pozzo, dove l'ho messa? Vedo qui. Ah, ecco. Pubblicità che arrivano per le chiese. Questa qui, immagina la tua vita senza paura. Sembra anche bella, eh? Poi legge dietro, ah sì, la chiesa Crosswater Community Church, stiamo prendendo, siete stati licenziati al lavoro, c'è l'economia che fa schifo, guerre nel Middle East, nell'Oriente lì, insomma, bla bla bla, bla 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 bla. Ma vedi un futuro, vorresti un futuro con meno paura e più fiducia? Allora vieni alla Community Church Crosswater, possiamo aiutarti, iscriviti, esplora i segreti della vita senza paura. Be fearless, stai senza paura, 13 settembre, perché aver paura? Ah, ci sono anche tipo dei seminari, eh? Crosswater Church. Poi mi è arrivato anche questo, Ask God. Chiedi aiuto a Dio, chiedi Dio. C'è un po' un parodia ask.com, che è un motore di ricerca quando fai le domande, o answer.com. Allora, se chiedi a Dio una domanda, che cosa otterrai? Ah, la Christ Church. Chiedi a Dio tutte le domande. Eh, sì, allora, ve lo do questo qua, se avete dei problemi Apple, computer, chiedete a Dio. Sarebbe vero, benissimo, c'è il numero di telefono, telefonare? Ah, sì, allora, io voglio chiedere a Dio, c'ho un problema con l'eofa, dove non mi funziona sta cosa? Bellissimo, uno scherzone, eh? Perché le cose male succedono alle persone buone? Dio, che cosa veramente, a cosa veramente piace? Non è che ci sono molti modi per andare in paradiso? Se tu... Che cosa succede veramente quando muori? Porca putta, una domanda che mi sono sempre chiesto! E adesso c'è il numero da telefonare! Allora, 904-268-2500. A posto. Risposte di oggi, veloci! Sergio D'Iorio, info. Uè, bene, i tuoi tutorial si grandi, posso farti una domanda? Ho creato un sito con due guide HTML e CSS, ma per integrare un cartello che sia Zen piuttosto che Magento che devo fare? Eeeh! E devi guardarti le guide, no? Io, a parte il fatto che Zen Cart non l'ho mai usato e neanche Magento, però voglio provare. Io e noi di solito non facciamo grandi e-commerce siti, no? Però quando li facciamo usiamo uno sempliciotto, a pagamento, è un template, però... C'è un sacco di funzioni, abbastanza di strisata. Però, prossimamente voglio provare anch'io sto calo di Magento, che è la versione community e gratis, però non ho capito che limitazioni hai, del tipo, posso usare le carte di credito? Mi pare che avevo letto che potevi usare solo Paypal, però voglio usare carte di credito, voglio usare authorize.net, quei siti lì, perché Paypal, bellissimo, non deve avere il server sicuro, bla bla bla, però... Però, va bene, mi fido, mi fido anche di più di un sito che ha Paypal, e mi... Secondo me è Paypal, però a livello magari così, a prima vista sembra poco professionale, ti arriva la pagina di Paypal, poi devi loggarti, invece è più bello uno senza Paypal. Però, non so, questo qua, se Magento fa questa funzione, comunque ne avevo trovato uno, porca, mi sono dimenticato, ma è proprio bello di... Sistema per shopping cart, vi dico subito, devo andare sul mio sito di Digo, Digo, Digo... Niente, non me lo ricordo, però l'ho visto, era molto bello, un shopping cart, simple cart, mi sembra, però non tanto simple, fatto bene, la grafica... Dov'è che ho visto? Arca, pozzolo! Niente, Digo, posso essere morto. Crash 302. Allora, video. Ritorno al futuro. Ma Doraemon è sparito? No, Doraemon è qua. Stava dormendo. Ah, cos'è lì? State bu! State bu! Come direbbe quel... Ho sentito dalla radio, quel parlamentare che doveva fare un discorso, ha parlato in napoletano e i traduttori non riuscivano a tradurre. State bu! Guaiù! Ecco. Come si ridice, noi di Milano parliamo così. Guarda. Allora, Toldan. Ciao, sono il principiante di Photoshop, avrei bisogno di qualche aiuto a copriverti per i video, sono interessantissimi. Ho visto tutti i due i video, dal primo e l'ultimo. Vuol dire, ma te dove abiti? Ah, questa non si è intanto. Allora, ho un'immagine di una copertina in duplano da ricostruire in Photoshop, ma non so che del programma è iniziario. Vorrei farti vedere le foto. Eh, ma non lo so, insomma. Cioè, devo ricostruire una foto in duplano. Allora, schiaffi la foto, ci scrivi il testo sopra e metti due quadrati a posto. Mi sembra facile. Devo vedere la foto, mandami la foto. Caricala a qualche parte e poi ti dirò chi sei. Jesusful! Dieci domande sul computer. Allora, uno. Cosa manca a Windows per essere come il Mac? Secondo me, Windows per essere come il Mac deve... Almeno io parlo Windows XP, perché non ho mai avuto Windows Vista. Poi non uso il PC, almeno lo uso giusto per in Parallels. Quindi, magari adesso Windows Vista funziona tutto benissimo, quindi non lo so, eh. E anche Windows 7, non mi chiedete niente di quello. Comunque, secondo me, una cosa che ha Windows, che manca... Cioè, una cosa brutta che ha Windows, che mi stava sempre sulle palle... Allora, è che Windows ti crede un idiota, no? E invece il Macintosh no. Cioè l'Apple, insomma... Windows ti vengono sempre su 200 pop-up di suggerimenti. Cioè il browser che deve aggiornarsi, devi riavviare il computer adesso, in 10 secondi. Quindi, l'antivirus che... Vabbè, l'antivirus è un cosa a parte, però... Se non hai l'antivirus, Windows sempre ti vuole dire... Non è a rischio, vabbè, lo puoi disabilitare. Poi mandi, che so... Office, 200 pop-up, ehi, il cane! Ehi, devi fare quei fake... Ma vabbè, non me ne fai niente! Poi quando installi una cosa, ti mette sempre 300 file nel menu avvio. Dopo un mese hai il menu avvio, che è così! Invece il Macintosh non ti dice niente! Lui, deve per scontato che te sei già bravo col computer, quindi... Non ti vengono pop-up fuori, non ti mette le cose nel menu avvio, non te le mette nel dock... Te le devi andare a mettere te! E questo è molto bello! Poi magari c'hai l'art dispieno di virus, però non mi esci a fare un coso... Ehi, ma guarda che sei a rischio! No! Basta! Cosa manca a Windows PlayStation come il Mac? Beh, ovviamente tutti direbbero la stabilità, cos'è così... Io non lo voglio dire, perché magari... Cioè, con Windows, secondo me, crasha... Almeno il Mac crashava sempre, anche perché in Windows uno si installa a 62 programmini che partono l'avvio... Poi ogni programmino ci va a schiaffare i DLL dentro... A Windows, poi rallenta... E allora alla fine crasha, no? E invece con il Macintosh, soprattutto molti anni orso, no? Orso, no? Per favore... Non c'era quasi niente da scaricare, lo compravvi per lavorare, quindi non crashava mai, ovvio, no? Non c'erano tutte cazzatine! E invece, vai, adesso ci sono molte più cazzatine, no? Comunque... Allora era sempre veloce, no? Comunque è veloce anche adesso! E invece Windows è sempre lento, che ci metti qua, ci metti zona là... Poi metti l'antivirus... Poi ci metti, che so... Stronzatine che stanno sempre attive, che palle! Ok, quindi manca questo! Che giudizio hai su Linux come sistema operativo? Troppo difficile! Perché adesso, vabbè, qui ovviamente tutti criticare, assolto... No! Linux è difficile! Non è per l'utente media! Anch'io, che modestamente sono un genio, Che so installare una Sound Blaster, la scheda, Settare gli RQ, Gli Interrupt, Gli RQ7, E poi il Switch, Installare hard disk, Tutto sparare... Oh, Linux! Ho provato un paio di volte! Non mi piace! Non riesco a fare un caos! Poi, to! Devi installare un'applicazione! Un casino! Devi suggerire il tutorial! M, 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 C, 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 P, P, P... Tutto da installare a mano, ma che schifo, dai! Poi mi stupisco! Poi, Linux non sfonda, Ve lo dico io, perché? Perché è gratis! Perché quando uno vede una cosa gratis, Dice, beh, sicuramente quella non vale niente! Invece, se Linux fosse a pagamento, Allora, eh beh, però se lo mettono a pagamento, Vuol dire che... Cioè, hanno lavorato duro, eh! Infatti, anche questo è un concetto Che anche Mary Fisher non l'ha capito Quando io gli dico Word, eh, dobbiamo installare un blog Allora usiamo Wordpress E' gratis! Gratis! Ma allora, non lo so, ci deve essere la fregatura, no? Così! Allora, qual è la migliore scheda grafica in circolazione? Se Linux costasse duemila dollari Tutti lo comprerebbero! Allora, qual è la migliore scheda grafica in circolazione? Non lo compro, non so! Quella che viene con Macintosh Siccome noi in Macintosh Non possiamo cambiare le schede grafiche Come, come su PC Per, non siamo, non sappiamo niente sulle schede grafiche Prendiamo quella che, eh, il signore ci dà Steve Jobs Allora, secondo te Qual è la migliore marca di notebook? Apple, no? Cioè, l'Apple è, eh, il Mac Air Molto bello, stile, economico Non lo conosco È una cosa che il signore non ci dà Qual è il migliore programma per creare siti web? Allora Secondo me, allora, io uso Dreamweaver E mi trovo benissimo Poi il programmatore super esperto Ti dirà sicuramente Oh, Dreamweaver è una merda Perché ti spatacca tutto il codice Ed è anche vero Perché a volte io ho il mio codice Tutto allineato benissimo Poi gli gira Dreamweaver Te lo vuole risistemare come vuole lui Poi, tipo, inserito in immagine Automativamente ti fai Il paragraph tag intorno all'immagine E mi sta sulle palle Perché poi, avendo Se avete il CSS I paragrafi con degli spazi Anche le immagini verranno con gli spazi Però Però io guardo Io faccio Dreamweaver sempre a metà Sopra il codice Sotto il preview Mi piace perché Scrivendo nel codice Automaticamente il preview Allora, se no Altri programmi Cioè, potrei fare anche un sito web dal niente Con Con un Notepad Con text pattern No, come si chiama Textmate O io ho textmate Ho provato Il problema è che Uno non ha un FTP integrato Quindi è una palla Invece Dreamweaver c'è un FTP integrato E' bellissimo Quindi ho provato a far Mi sono stupato subito Comunque ieri E me l'ho dimenticato Di avere sto software Si chiama Espresso Ha FTP integrato Ha il preview integrato E ha Vabbè, a voi mi interessa poco Comunque Ha Vabbè, ha moltissimi Temi Con funzioni Shortcut Così Io adesso L'ho scaricato per Spression Engine Quindi Mi fa vedere i tag Con colore diverso Però sicuramente Esisterà Cioè, sicuramente c'è più PHP ISP Quindi oggi Provo a usarlo Perché Poi è bello che l'ho comprato in un bundle Per pochissimi soldi E non l'ho mai usato Comunque Proverò quello Comunque Linea di base Soprattutto se siete principianti Io direi Dreamweaver Non ci sono alternative Non volete mica usare front page Front page è una cacata Dai Brutto Adesso non c'è più C'è Expressions Si chiama Se forse Non so le novità Di quel software Però se come front page Fa schifo Cioè Dovete essere proprio Fatti male Per usare Front page Perché front page Ti fa tutto luce Cioè Wizard Se volete proprio fare il vostro primo sitissimo Ok front page Però Fa schifo Non mi piace Io lo dico a livello professionale Non lo dico a livello cacca A livello cacca usate front page A livello professionale Usate Dreamweaver Anche tipo iMovie Fa schifo iMovie non è a livello professionale Fa schifo È una merda Basta Utilizzo ancora il linguaggio DOS E certo Quando vado a casa dei miei amici Che hanno il DOS 6.0 Faccio nell'auto ExeBat Questa istruzione Fatela anche voi Allora Format C Voi direte Due punti No Format C Barra Autotest Che mi ricordo benissimo Che O format Autotest Oppure Del 3 Asterisco punto Asterisco Barra Y Per il primo fa Format Senza chiederti Niente No Format Poi vabbè Questa La gente pensa Format C Due punti E format Ma che Non format Perché lo dovete lanciare Da un boot disk Quindi bisogna Invece del 3 Cancella Tutte i file Più le directory Barra Y Non vi chiede la conferma Fatelo tutti Poi Comunque il DOS Non lo uso Cosa mi serve Usare il DOS Qual è il miglior La miglior Webcam Presente sul mercato Non lo conosco Ho questa qui Integrata Nell'Apple Macintosh Quindi vabbè Qual è il migliore Antivirus Non lo conosco Migliore antivirus Non lo conosco Solo Il Macintosh Non serve l'antivirus Lo sai usare AutoCAD No Non mi serve Niente Quanto consideri Importante La memoria RAM All'interno del computer Molto importante Perché Se hai Molta memoria RAM Il computer Non deve lavorare Sull'hard disk Per creare la memoria Virtuale Quindi ci va Ovvio che Se il tuo computer È un cesso E ci metti più RAM Un po' Fa Però rimarrà sempre lento Un po' Fa Comunque Finite Pablo Gilberto Hard disk Mi devo prendere Un hard disk esterno Come l'ho formato Fat 32 Come sarà già O Mac Esteso Journal Beh se c'è un Macintosh O Mac Esteso Journal Io ho sempre usato Quello Non mi hanno dato mai I problemi A parte la comparabilità Con PC Che non mi interessa La possibilità di usare Grandify 4G Cosa cambia Allora Quello che ti dà Di regola Il Macintosh Ti dice Journal Fai Journal Io potrei Mentre Io potrei Se fai Il barocco Abocopico Non c'è Super Ma Firewire E USB A me piace Sempre più Il Firewire Perché se hai 12 hard disk Non è che Ogni hard disk Devi andare USB Direttamente Cioè Se hai 12 hard disk Li colleghi In serie Con il Firewire Invece Con il USB Devi collegare Ogni simbolo Hard disk Direttamente Al computer È una palla Quindi io Compro quasi sempre Hard disk Firewire Più belli E comunque Il Mac Extended Formatolo Come dice lui Devi fidarti De quello Che dice il signore Perché il signore Non va ingannato Allora Luke 688 Problema Avrei da sottoporti Una domanda Vabbè Siccome Ho scaricato Windows XP SP2 Non voglio dare i soldi A Microsoft Ho prontamente Masterizzato Un CD Ho creato Una partizione Su Mac E mi ha chiesto Inserire il disco Il CD Blablabla Ho fatto Il problema Fatta male Non va Uso Burn Non trovo niente Uso Burn Non ho trovato Nessuna voce Che parli di buttare Non lo so Non lo so Ho creato Una partizione Su Mac E quando mi ha chiesto Inserire il CD L'ho fatto Ma non lo leggeva Allora ho pensato Forse una diversa Partizione di Windows Non compro le ore Ho rischierato L'altro XP Questa volta SP3 Ho provato Il bagnetto Ho letto Vi fosse il problema Lì sono fatto male Dove essere Uso come masterizzatore Ma non lo so Se riesce a fare Non lo so Non lo legge Deve essere Ma queste robe A parte il fatto Che non uso Windows A parte il fatto Che non ho mai Potuto installare Windows Poi A parte il fatto Che non ti spieghi A parte il fatto Che dici Non voglio dare I soldi Alla Microsoft Però vuoi usare Il software Se non ti piace Il Windows Non usarlo Comunque Vuoi farlo Su Bootcamp Non si capisce Non si capisce Niente Cosa dici Non si capisce Allora io immagino Non lo so Vuoi farlo Su Bootcamp Vai Non lo so Sono stanco Danzeni Sbagliato Link Ah si Ho visto Praticamente Berlusconi Ha detto Che Linus E quello di Radijans È un comunista Ma Secondo me Linus Non è comunista Secondo me È di destra Almeno lui Dice così Fa intendere Così Perché Fa intendere Che lui È severo Delle sue leggi Nell'ufficio Le donne Non possono portare I pantaloni Tutto così No E quindi Deve essere Verso la forza di destra Quello delle donne Dei pantaloni Non sono inventato Però Fa intendere Che è severo Ha le sue leggi E Come si sa Solo quelli di destra Hanno le leggi Quelli di sinistra Fanno qualche rollo Fumano in classe Droghe Libere Ma c'è quelli di sinistra Quelli di sinistra Sono più Di sinistra Quelli di destra Sono più usi Dal semi Ok Allora una domanda a te Su Berlusconi Visto che ti piace tanto Ma Io ultimamente Vedo sempre Che tutti Elogiano Berlusconi Per queste case Che ha fatto Allora Io sono sicuro Che qualcuno ne parla male Voglio sapere perché Cioè Non ho visto nessuna Notizia di cui Però sicuramente Ci sarà Perché è impossibile Che Berlusconi Fa una cosa E non ci siano La controparte Che lo critica Per qualsiasi cosa Anche se va tipo al bar A prendersi un caffè E guarda proprio lì Non lavora mai È sempre lì al bar A bersi il caffè Con tutti i soldi che c'ha Quindi sicuramente Qualcuno deve averlo Criticato per le case Voglio leggerli Dammi qualche link giusto Allora Ma il giornale Di Berlusconi Ah no È il giornale Di Berlusconi Ce l'ha pure contro Linus Non è vero Linus è antipatico Quindi deve essere per forza Di sinistra estrema Poi una cosa che Secondo me Chi fa i soldi Non può essere di sinistra Deve essere per forza Di destra Tipo anche i cantanti Uno che ha un casino Di soldi Cioè A meno che Dopo Va in Africa Tipo Giovannotti Mi sa Lui è di sinistra Però Fa i soldi Però Fa tipo quelle robe Tipo Africa Tipo donazioni Non lo so A vederlo così Tutti i riccioli Eh Quando uno c'è i riccioli Forse lo fa solo Comunque Sicuramente Se uno fa tanti soldi Tipo miliardi Ed è comunista O dice che Di essere di sinistra Ha sbagliato tutto Lui deve essere di destra Perché i capitalisti Sono di destra E invece i comunisti Sono di sinistra Questa è Questa è la visione Della politica Che mi ha insegnato Ciuschi Se c'hai i soldi E sei comunista Non puoi tenerteli Devi dire Devi dare ai tuoi amici Dire Noi siamo comunisti Uno per tutti Tutti per uno Invece se sei di stessa E c'hai un sacco di soldi Allora te li puoi tenere Io sono io Capitalismo Viva noi Eh Basta Simo Jex89 Ciao Volevo un'informazione Sulla funzione Google Map Voglio sapere innanzitutto Se la funzione Maps È la stessa cosa Del GPS integrato Oppure se è un'applicazione Installata Con le mappe Che ti fa Vedere le strade Secondo Allora Allora Ovviamente Sto parlando sull'iPhone Ah si C'è scritto Nel titolo No Google La funzione Maps È la stessa cosa È la stessa cosa del GPS integrato Oppure Allora Google Maps È una cosa Ma non è È la stessa cosa Del GPS integrato Oppure un'applicazione Installata Con le mappe Che ti fa vedere Quando le strade Eccetera No Il GPS dell'iPhone È integrato Con le mappe di Google In tempo reale Quindi io l'uso Soprattutto quello Non avendo Software Costosi Aggiuntivi Tipo TomTom Quindi Se non ti frega molto Puoi usare Google Maps Seconda domanda iPhone Dicono che il GPS integrato Ma è a pagamento No È gratis Cioè Posso utilizzare iPhone Come un semplice navigatore Oppure È come il Nokia Che per usare il GPS Devi connettere In internet Spendere i soldi Allora Allora Se te vuoi Il navigatore bello Che ti dice Gira a destra Gira a sinistra Devi spendere i soldi Comprati TomTom Navigator Programmi così Poi Per avere L'iPhone E per utilizzare Il GPS Almeno da me Devi anche Avere una connessione Internet GPS Teoricamente Non è connessione Internet E non servirebbe Connessione Internet Però Nel mio caso Il GPS Cioè Nel mio caso L'iPhone Deve essere connesso A internet Altrimenti Non va Non va Non so Però Però Quando te compri L'iPhone Ti devi fare Anche L'abbonamento No Che ti da Tipo Un giga Di spazio Disponibile Disponibile Discarico Quindi Sei a posto Però Non so Perché fate a me Queste domande Tecniche Io non le so Pazzo Snake Manuele Ciao Senti Stavo seguendo Il tuo tutorial Come fare Un sito web Adesso Che ho finito A parte PS Non riesco A procedere Mi sbala Tutto Come si Giava Potrei fare Un video Mostrando Lo zero Come Avevi Ditto Ma come L'ho fatto Mille volte Sti tutorial Ormai Lo sanno Fare Ormai Anche Borghez Sa fare Un sito web Farò Prossimamente Ma il problema È che io Quando faccio Un sito web Dopo lo faccio Incasinatissimo Difficilissimo Non per Per i principianti E allora Difficile Difficile È un mondo Difficile Come diceva Quello di destra Famoso Morto Super Dark Devil PS3 Slim Alla fine È sempre La PS3 Praticamente Cercheranno Di fregare GameStop Siccome Ho avuto Da poco Lioid La mia Console È ormai Da buttare Conosco La guida Reparazione Queste L'idea Riparo La prossima Poi Poi Vendo A GameStop Ok Compra Slim Compra PS3 Slim Molto bello Pachitube Allora Noob Lo conoscevo Allora Guardiamo Sto CMS Fire Firefit 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 Ci guarderò Magari Ci guarderò Di offerte Ne vendo Cento a giorno Una sola Ne scelgo Prossima LIL 90 Sete via Un'immagine Ah sì Ho già fatto Questo Cioè Per quello Che mi ha inviato L'immagine E Flash Che dice Dice che L'immagine Sfoca Io non lo so A me mi sembra Giusto Mi sembra tutto Giusto Ci guarderò Dopo Allora Google Voice Google Voice Ce l'ho Però Google Voice Non riesco a mandare Gli inviti E' solo mio Però Non mi piace Luigi Matta Ok Risposta Allora Per chiaramente Tutto Ciao a tutti